un buongiorno a tutti quanti da simonetta un buongiorno oppure una buona serata dipende quando guardate questo nuovo video insegnamento allora oggi ci scostiamo un attimo dai lavori di amore o di ritorno di addolcimento o dei lavori di purificazione oppure di denaro di lavoro di abbondanza è un lavoro che mi è stato richiesto varie volte giustamente ne comprendo anche il motivo perché nella vita purtroppo non è tutto rose e fiori e purtroppo ci scontriamo con persone estremamente negative estremamente cattive estremamente crudeli direi invidiose ma anche di più volendo rincarare la dose persone che ci hanno fatto del male che continuano a farci del male in svariati modi sul lavoro nella famiglia negli affetti nelle maldicenze in calugne in mille cose allora questo lavoro ve lo dico subito di magia nera la magia nera non va intesa come la cattiveria o il male è una frequenza energetica e come tale va usata con saggezza chiaramente va usata quando c'è bisogno quando c'è bisogno soprattutto per il mago etico di difendersi di attaccare quando è attaccato quando si trova in pericolo quindi non diventa magia nera che porta conseguenze come i famosi colpi di ritorno diventa un'azione necessaria per difenderci e per fermare questa negatività perciò se avete subito dei grandi torti delle cattiverie dei soprusi se vi hanno fatto del male se ve lo stanno facendo potete punire duramente con questo lavoro di magia nera la persona che vi fa del male se sono più persone dovrete fare un'operazione alla volta questo lavoro potete farlo sempre non ha importanza il giorno non ha importanza la lunazione non ha importanza nulla lo fate quando vi sentite di farlo soprattutto vi consiglio di farlo se potete né in orari serali o notturni poi se proprio non potete vi concentrate vi ritirate nel vostro luogo di lavoro nel vostro tavolino e lo fate anche di giorno ma verrà più forte se lo fate di notte questo per fare un preambolo guardate servono pochi elementi allora una penna rigorosamente nera oppure un pennarello se volete una matita nera però deve essere nera un pezzetto semplice di carta niente di più e niente di meno un piattino che poi vedrete a cosa serve e una candela nera io qui ho messo un pezzettino di candela nera perché non importa che sia anche intera se vi avanza anche della candela nera da altri lavori potete usare un pezzetto di candela nera altrimenti userete una candela nera nuova però serve il colore nero non può essere cambiato con il bianco con il rosso eccetera tutto deve essere color nero come altre cose vi suggerisco di preparare un vasettino di vetro di quelli che usiamo a casa e poi laviamo e conserviamo per fare tante cose può essere anche un pochino più grande io ho preso questo che mi sembrava abbastanza adatto e come altra opzione un pezzetto di stoffa nera quindi un pezzetto di stoffa di raso di cotone nera uno scampolo di stoffa nera poi vi spiegherò per quale motivo io qui adesso non ce l'ho perché mi manca però ve lo spiego a parole così capite benissimo mi raccomando non prendete il pezzetto di stoffa nera però ritagliandolo dai vostri vestiti dovete avere o proprio un pezzo di stoffa da cucito oppure appunto per il fai da te che si che si comprano nelle mercerie tranquillamente al metro ve ne basta comunque un pezzetto è non serve chissà quanto perché poi vediamo a cosa serve allora come si inizia si inizia così intanto chiaramente andiamo a centrare il bersaglio il bersaglio è la persona che dobbiamo punire che dobbiamo pesantemente colpire perché ci sta rovinando la vita e scriviamo un nome io metto un nome di fantasia mettiamo ecco la penna che funziona daniele daniele poggio mettete la data di nascita se se l'avete un eccola questa penna 11 giugno 1970 mi è venuto così allora scrivete con la penna nera nome cognome e possibilmente la data di nascita della persona da colpire la persona su cui volete vendicarvi uomo donna che sia mi raccomando fate questo lavoro ovviamente per vera e comprovata necessità altrimenti poi il problema torna a voi quindi ve lo dico già lo sapete in tanti è chiaro non fatelo per giocare si tratta di un lavoro molto pesante quindi fatelo ovviamente per giusta causa per rimandare indietro il male per punire pesantemente la persona che vi ha fatto o che vi sta facendo del male poi cosa fate potete piegare anche un attimo il foglio in modo che sia più comodo fare l'operazione della combustione e prendendo la candela nera quindi usando come accensione come vettore di fuoco la fiamma che viene dalla candela nera voi fate ardere questo foglio lo fate bruciare chiaramente usate un piatto o un contenitore lo fate bruciare e dite sette volte daniele poggio da questo momento tu non avrai più pace daniele poggio da questo momento tu non avrai più pace per sette volte memorizzate questa frase memorizzatela daniele poggio oppure maria rossi quello che è da questo momento tu non avrai più pace ripetete con rabbia con concentrazione mentre mentalizzate la persona poi se volete potete dare fuoco ancora di più se non è bruciato completamente perché deve diventare cenere daniele poggio da questo momento tu non avrai più pace da questo momento tu non avrai più pace da questo momento tu non avrai più pace ripetendo e mentalizzando quindi visualizzando nella vostra testa la persona ripetete sette volte questa frase semplice magica ma molto potente che da questo momento che da questo momento questa persona non avrà più pace che vuol dire veramente tante cose a questo punto avete ottenuto della cenere né più né meno avete incenerito la persona cosa fate avete queste opzioni e le opzioni vi prego di memorizzarle oppure poi di riguardare il video ma sono semplici potete prendere questa cenere è così metterla magari in un barattolino che può essere anche questo oppure metterla in un in un pezzettino di stagnola e spargere questa cenere se potete è ovviamente se potete davanti la casa della persona quindi davanti quando non siete visti è chiaro altrimenti diventa un reato non dovete entrare in casa di nessuno ma dovete spargere sulla soglia o comunque sul sull'entrata sul cancello o la soglia comunque che varca la la porta della persona questa cenere ovviamente nessuno si accorgerà di niente e questa è la prima opzione se non potete fare questa operazione cosa fate prima vi ho detto di prendere un pezzetto di stoffa nera voi prendete il pezzetto di stoffa nera rovesciate dentro la cenere tutta quanta che poi non è molta ma è carica di energia forte negativa fate tre nodi due nodi quello che è e questo piccolo sacchettino è con la stoffa nera e dentro questa cenere lo andate ad interrare potete fare la stessa cosa se non avete la stessa la stoffa nera versando la cenere in un barattolino che poi andrete a chiudere quindi riepilogando che voi possiate spargere le ceneri davanti a casa della persona va bene che voi possiate chiudere queste ceneri in un involto di stoffa nera va bene che voi possiate anche fare un barattolino con dentro le ceneri va bene lo stesso poi dobbiamo disfarci ovviamente nel luogo appropriato di questa fattura perché è una fattura fattura vuol dire fare un'opera magica è in questo caso una fattura però di magia nera di magia di attacco difesa cosa fate voi mettiamo il caso che avete usato il barattolino per fare un esempio il barattolino lo chiudete molto bene e lo andate ad interrare in un cimitero oppure lo andate ad interrare in un luogo desolato è un campo desolato per fare un esempio potrebbe essere anche un bosco può essere nei pressi di una discarica non vicino a casa vostra quindi questo questo barattolo oppure il sacchetto nero va interrato in un cimitero o in un in uno spiazzo di terra veramente abbandonata desolata potete interrarlo anche in un incrocio dove c'è terra interrare vuol dire prendere chiaramente una palettina scavare con un pochino di pazienza fare una buca e ricoprire il tutto fate questa operazione perché questo lavoro deve andare sotto terra non perché noi diciamo che la persona deve andare all'altro mondo ma perché non deve avere più pace ricordatevi la frase di prima da questo momento tu non avrai più pace per sette volte fate questo lavoro non lo fate per gioco perché non può essere nemmeno disfatto a meno che non ci sia un operatore valido in grado di disfare una fattura di questo tipo e vedrete che via via che passa il tempo questa persona comincerà a avere un sacco di problemi avere un sacco di situazioni veramente spiacevoli e chiaramente poi a lasciarvi anche in pace con questa spiegazione con questo video insegnamento che spero sia stato chiaro vi saluto per il momento vi mando un grande bacione sperando che tutto vada sempre meglio nella vostra vita e vi ringrazio come sempre dico per il vostro affetto perché mi seguite perché mi contattate chiaramente vi invito a iscrivervi al canale vi invito se vi va non fatelo per forza vi invito a dare un like e da simonetta per oggi poi vedremo se riusciamo a fare altro per oggi è tutto con questo nuovo rituale un abbraccio e a presto grazie a tutti